Tutte le principali città al mondo hanno una biennale d'arte e Spoleto non poteva essere da meno, muove da questa considerazione il direttore artistico della biennale della città del festival, la cui seconda edizione è in programma fino al 20 luglio in varie prestigiose location, dalla galleria eclettica alle sale del comune in via Visiale fino al museo dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia e poi le mostre personali di grandi maestri presso la sede della galleria Poli d'arte in via Duomo. Ideatore e direttore della manifestazione è il maestro Giuliano Ottaviani, è già da tempo assiduo frequentatore della città del festival che ha fortemente deciso di puntare sull'innovazione a partire dal nome ecobiennale del dialogo. Ecobiennale perché ci siamo legati alla ferrovia, qui c'è una bellissima, occorre fantasia quindi, no? Le biennali di che cosa? Sono biennali di arte, ma di che cosa? Possono prendere spunto in situazioni emergenti, qui c'è una ferrovia. Diciamo che non è più tale, è però diventato un percorso turistico, è diventato un luogo d'incontro, eccetera, perché no in un contesto quasi preistorico. Quindi come si fanno parlare di ecologia, di una biennale è che spesso stimola gli artisti a creare determinati momenti espressivi, ma l'artista vero non ha bisogno di mezzi sofisticati. La grande novità di quest'anno è la partnership con lo Spoleto Art Festival e il suo presidente Luca Filipponi, che farà anche la presentazione critica e curerà la comunicazione della Kermess. Con il maestro Giuliano Ottaviani abbiamo unito le forze, ci abbiamo ritenuto che una competitività così estesa che c'è in genere anche nel mondo dell'arte non è una cosa positiva, ma bisogna mettersi a confronto per poi creare delle sinergie. Quindi io in questa fase sarò un supporter, curerò appunto la parte comunicativa e la presentazione critica della biennale di Spoleto, che è una creatura creata appunto da Giuliano Ottaviani, di cui è anche direttore artistico, e poi durante lo Spoleto Art Festival Giuliano Ottaviani curerà tutto un suo gruppo di artisti internazionali e poi abbiamo studiato insieme dei progetti comuni per il futuro, molto importanti. Girando un po' per l'Italia e per il mondo abbiamo visto che l'arte contemporanea ha bisogno di nuove dinamiche organizzative e comunicative che i musei tradizionali sono divenuti sempre di più distanti dalla realtà e solo autocelebrativi nei confronti degli artisti contemporanei. Da qui hanno spiegato i due, nasce lo spunto per la biennale del progetto Città Museo sul quale stiamo lavorando per il futuro.